Il noto coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi ha manifestato un forte malessere al grande fratello, mettendo in discussione la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia. Durante una lunga conversazione inconfessionale ha espresso la sua insofferenza per alcune dinamiche del programma, lasciando intendere di voler abbandonare il reality. Dopo quasi un'ora di discussione con gli autori, Turchi ha confidato a un'altra inquilina di aver già predisposto tutto per la sua partenza, suscitando emozioni forti tra i suoi compagni di avventura. In particolare Pamela Petrarolo è apparsa visibilmente commossa e ha cercato di convincerlo a rimanere, sottolineando che la sua partenza potrebbe influenzare l'atmosfera all'interno della casa. La produzione ha cercato di minimizzare la situazione, sostenendo che si tratti solo dell'ennesima lamentela da parte di Turchi, che in passato ha già manifestato il desiderio di uscire. Tuttavia è interessante notare che la moglie di Turchi, Carmen Russo, è attualmente impegnata nella nuova stagione di Flashdance, il musical, dove lui stesso è coinvolto come regista. Questo potrebbe suggerire che le sue insofferenze siano legate non solo al contesto del reality, ma anche a pressioni professionali esterne. La coincidenza di impegni lavorativi con il malessere manifestato potrebbe essere un fattore determinante nella sua decisione di lasciare il programma. La produzione del Grande Fratello ha annunciato che eventuali novità riguardo alla sua permanenza saranno comunicate durante la diretta in primetime di martedì.